Mentre salgono i numeri alla stazione ferroviaria di Kramatorsk, 39 morti fra i quali 4 bambini e 100 feriti, Muska si difende e accusa Kiev del lancio dei missili. E in vista dell'offensiva di Muska sud-est, il Pentagono si prepara a inviare a Kiev più di 1.400 missili, 5.000 anticarro e centiraia di droni. Comprando petrolio e gas russo state finanziando l'uccisione degli ucraini, lo ha scritto su Twitter il presidente Zelensky, alternando immagini di persone sorridenti che fanno benzina alla stazione di servizio a quelle di vittime che giacciano per le strade dell'Ucraina.